A tutti da Saludatori, vi trovo con il grandissimo Graziano Piagnerelli che ti chiede un saluto e un ricordo a tutti i tifosi e fan I tifosi di? I tuoi tifosi che ti segnalano Ah ok, ma avessi che ce ne sia ancora qualcuno vivo in questa letta, i salutori Grazie, allora un pronostico per oggi Lascia stare Lasciamo stare, ok Allora io intanto vi regalo la manina dell'Italia del Saludatore Ciao Faccio lavoro, grazie